Ciao, andiamo a vedere la palestra. Allora, qui c'è la sala dove svolgiamo le lezioni di gruppo, molto ampia. Comunque, sono quasi quattro punti e quadrati. Poi, qui abbiamo la stanza polifunzionale di fisioterapia e altro, perché abbiamo il nostro fisioterapista di fiducia che per qualsiasi cosa ci può aiutare, anche a noi coach, per modificare determinati esercizi nel caso di infortuni. Comunque, l'infortunio è anche dietro l'arco, non solo qui, ma anche fuori, praticando altri sport o anche lavorando. Quindi, siamo insibiosi e cercando di aiutarci, veniamo incontro al cliente. Qui abbiamo un'altra piccola postazione, piccola ma le persone, quattro, cinque persone, ci si possono allenare, perché noi non facciamo solo lezioni di gruppo. Gestiamo anche persone con delle schede per chi si vuole allenare per conto proprio, anche in orari differenti da quelli stabiliti da noi, in maniera tale che sia loro sia noi giungiamo ad un obiettivo comune. In più, noi facciamo anche seduti di personal training, quindi qui è una postazione molto isolata e abbattata, dove possiamo concentrarci meglio. Allora, siamo aperti tutti i giorni, dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 17. Allora, siamo aperti tutti i giorni, dalle 10 alle 17.